Restiamo nell'attualità ma cambiamo totalmente argomento, siamo comunque sempre nel comune di Forio dove sono stati collocati due distributori attraverso i quali i maggiorenni possono acquistare prodotti a base di Cannabis Light. Uno è stato posto nel piazzale di Citara ed un altro a Panza in zona San Gennaro. Si tratta di prodotti, è giusto sottolinearlo, la cui vendita è consentita dalla legge. Intanto rispetto alle segnalazioni giunteci da genitori preoccupati che con maggiore facilità i loro figli possono avvicinarsi a prodotti contenenti Cannabis, abbiamo contattato il dottor Mimmo Loffredo il quale oltre ad essere medico è anche amministratore comunale di Forio. Lo abbiamo in collegamento video. Buonasera dottore, il suo commento a questa situazione non solo da un punto di vista medico su quelli che possono essere i rischi per quanto si tratti di Cannabis Light, dall'altro lato da politico e amministratore quella che è stata una scelta forse non ragionata da parte del comune di Forio. Buonasera Enzo, buonasera a tutti voi. Allora noi solo un paio di giorni fa siamo riacconoscenze di questi distributori a Panza e delle segnazioni da parte delle mamme. Vi assicuro che subito l'amministrazione si è messa in moto, nel capo il dottore con il sindaco Francesco Verdeo che stava a Roma e domani mattina rientra per risolvere entro lunedì martedì questa situazione. L'amministrazione tutta non è assolutamente d'accordo a questi distributori, a delà del fatto che possano essere o meno distributori di sostanze legali, ma il punto è questo, uno non c'è una vigilanza durante le ore notturne e neanche diurne perché sono stati collocati in posti abbastanza isolati, quindi anche un minorenne, un quattordicenne, un quindicenne può andare a prelevare queste sostanze, basta avere la testa sanitaria di un genitore e la cosa è fatta. Il secondo punto è che praticamente a di là del fatto di mettere o meno questa sostanza, è proprio un brutto esempio che stiamo dando ai nostri giovani, ci lamentiamo degli incidenti stradali che avvengono di frequente sull'isola Vischia e ogni volta che muore un ragazzino o ci sono degli incidenti gravi notiamo che ci sono degli alti tassi di alcol e di droghe nei ragazzi che guidano queste macchine. Io credo che lo stato attuale, noi ci scandalizziamo quando vediamo un omosessuale, quando ci parlano di cose legate all'omosessualità, ma com'è possibile che sull'isola Vischia le persone non si scandalizzano per quanto riguarda questi distributori? Ripeto, se queste persone, i proprietari di questi distributori vogliono fare questa attività, la legge non lo vieta, ma a nostro avviso, a parere della nostra amministrazione, dovrebbero fare dei negozi col personale ad atto, ma assolutamente noi ci lotteremo fino alla fine per far togliere questi distributori, perché non è possibile che di sera, di notte, immagino stasera quello che sta succedendo a Panza, perché giustamente questi qua li hanno messi in posto isolati, dove non è possibile sorvegliare, non è possibile vedere questi ragazzi. Io non riesco a immaginare quello che sta succedendo stasera a Panza, sfido chiunque. Io sono convinto che stasera, 14-15 anni, andranno a prelevare queste sostanze. Io abito in un posto come secondi, ho visto amici miei morire per la droga. Io sono contrario e vi assicuro, nessuno mai ha iniziato a usare cocaina e eroina prima di aver provato l'erba, la cannabis. Quindi quello è un passaggio domani. Noi dobbiamo impedire queste cose per il bene dei nostri figli, dobbiamo impedire con tutte le nostre forze. Se i signori vogliono vendere sta roba, lo facessero, ma in dei negozi autorizzati e non con i distributori. Quindi è una cosa su cui non sorvoleremo, non passeremo, ci batteremo fino alla fine, proprio come amministrazione. Non è solo un fatto mio personale. Dottore, al di là, è soltanto una questione di cattivo messaggio e quindi poi di rischio di andare oltre per i ragazzi, o anche la stessa Cannabis Light può avere degli effetti non proprio benefici per chi poi ne assume, soprattutto se sono minorenni, ovviamente? Allora, di dato il messaggio che stiamo lanciando, è come se noi dicessimo ai nostri figli, guarda, tu poi ti compri una macchina che va a 200 all'ora sulla sopraelevata dischia, tanto non succede niente, infatti 200 all'ora è una bella macchina. Noi stiamo dando un cattivo messaggio, proprio un pessimo messaggio. Poi vi assicuro che un dodicenne, un tredicenne, un quattro, perché guarda, io lavorando in pronto soccorso, vedo il sabato sì, il venerdì sì, ragazzine, ragazzini di 14 anni, di buona famiglia, ragazzini per bene, che vengono ubriachi, che hanno assunto sostanze stupefacenti, qui dobbiamo smettere, dobbiamo vedere il pugno duro. Non dobbiamo, cioè, veramente stavolta faremo come ha detto De Luca, con lanciafiamme, con lanciafiamme veramente, ma non ci fermeremo assolutamente, perché oltre al cattivo messaggio, che io sono convinto che un tredicenne inizia a usare questa schifezza, perché di schifezza si tratta, e passerà droghe più pesanti, lo dico per esperienza personale, ho visto morire amici miei per le droghe, va bene, quindi non esiste niente, al di là del messaggio, dobbiamo avere il pugno duro. E invito i genitori, qualora vedessero ragazzini minorenni vicino a questi distributori, ad avvisare le autorità competenti, perché dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri giovani. Grazie, grazie al dottor Mimmo Loffredo, ovviamente saremo vigili su questa situazione, pronti a dare aggiornamenti sugli sviluppi ad inizio settimana prossima. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata.